Il Nettuno si sta spogliando del cantiere che lo ha avvolto per più di un anno. Il restauro di questo oggetto ha coinvolto molti studenti, restauratori ed esperti. Iniziato a maggio 2016, dopo più di un anno di lavoro, il restauro vede la sua fine questa settimana, con gli operai impegnati a smontare l'imponente struttura che ha avvolto il Nettuno in questi mesi. La cerimonia di inaugurazione del monumento si terrà il 22 dicembre.